Dalla sfilata delle fazioni alla corsa delle bighe fino agli spettacoli che hanno fatto fare a fanesi e turisti un salto nel tempo recuperando gli antichi fasti e le tradizioni romane. Organizzata in soli pochi mesi la Fano de Cesare, Fano Infortune, ha riscosso un successo inaspettato grazie al lavoro svolto da decine di volontari, associazioni e denti che hanno permesso nel luglio scorso il ritorno dell'evento in grande stile. La manifestazione organizzata dal comune di Fano insieme alla Proloco e con la collaborazione di Colonia Giulia Fanestris, Simmacchia e Lennon e noi di Sant'Orso ha coinvolto 15 gruppi storici provenienti da tutta Italia. Per quattro giorni i rievocatori hanno allestito accampamenti in città, fatto ronde, eseguito dimostrazioni di riti e combattimenti fino ad arrivare al momento clou della manifestazione, la grande parata e la corsa delle bighe di domenica 17 luglio. Un lavoro in mane svolto anche di notte per assicurare la riuscita dell'evento, un impegno che è stato ripagato ieri alla cooperativa Tre Ponti di Fano dove tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato, hanno potuto trascorrere una serata in allegria e spenseratezza. Lo stare insieme, non solo il lavorare ma anche il cenare, lo stare insieme e dividere dei momenti è una cosa meravigliosa. Quando si lavora, si lavora e quando è il momento di fare un po' di festa ci siamo lo stesso. Beh, dobbiamo fare dei ringraziamenti perché sinergia è appunto collaborare, mettere insieme tante persone non è semplice e non è semplice nemmeno farle lavorare bene ma in questo caso avviene in una maniera del tutto naturale e spontanea. Infatti non a caso siamo più di 250 persone quindi vuol dire che come giustamente dicevi te la sinergia è stata completa perché mettere insieme un gruppo così corposo poi chiaramente mancano tutti i gruppi storici che chiaramente sono di fuori e che non sono potuti venire quindi sicuramente è stata una bella impresa e non a caso abbiamo un bel numero. È stata una stagione stupenda, ha poi commentato l'assessore Lucarelli che ha ringraziato ai tanti privati e le associazioni che si mettono in gioco per la città e che è difficile riscontrare altrove, ha detto, lo dimostra questa bella serata. Un anno veramente difficile perché poi abbiamo deciso soltanto a marzo che bisognava andare avanti con la manifestazione, con l'ok di tutte queste associazioni, tutti si sono dati da fare al massimo per dare a Fano un'edizione consona alle aspettative delle persone che sappiamo sono arrivate tante a Fano ed è stata un'edizione stupenda, un'edizione con un programma ricco dove ogni associazione ha dato il massimo e dove alla fine l'immagine della Fano dei Cesari, l'immagine della nostra storia, l'immagine della città è apparsa bella più che mai. Da oggi riprendiamo anche il percorso che ci porterà l'edizione 2023 della Fano dei Cesari perché sappiamo che ci sono tante cose belle ma sappiamo anche che ci sono tante cose da migliorare. Il punto è, se lo facciamo insieme, sono queste persone, se ci uniamo a livello cittadino in generale e nelle varie tematiche, se ci uniamo insieme a creare progetti, ecco, quando facciamo questo la città diventa bella e sicuramente diventiamo vincenti. Grazie a tutti!